If I am crazy Salute ragazzi e benvenuti su un nuovo video di Sanadani E oggi siamo qui su un altro episodio della vanilla Insieme a Dominic e Omega Allora, come vedete Col ferro che avevo andato nelle scorse episodi Mi sono fatto l'armatura in full ferro Dominic è riuscito a farsi La spada diamante E con gli altri italiani ha preso un bel picconazzo Bene, 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 bene Ok Posso una bistecca? Bistecca? Bistecche non abbiamo qua dentro Non abbiamo cibo? No, non abbiamo cibo No, solo 4 Dobbiamo fare una coltivazione però Un allevamento forzato di mucche Allora Siccome siamo in Italia non possiamo farlo E ci denunciano Io farei un po' di cesta Farei un sistema di raccolta Intanto vado vicino al fiume o al lago qua E creo Sono scemo Perché non ho indicato la cosa che mi serve Allora Torniamo qui alla cesta ragazzi E prendiamo i semini E andiamo a fare un po' di coltivazione Forte C'è Luca C'è Luca E Luca non viene Adesso è una registrazione Eh, io ho scritto One seconde One seconde Allora Allora Dove la facciamo? Di bello Ok ho seminato Hai seminato? Che cosa? Eh, un attimo Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Adesso è al fiume Leggiù Perfetto Eh, vicino al fiume Aspetta Ah, un lago Sogno in una fiume Al lago Al lago al lago al lago arriva la coltivazione di granoli io vado a uccidere un po' di mucche ok in questo bisogno ragazzi faremo un po' di esplorazione infatti ci stiamo parando ok dai oh my god andiamo, non uccidetevi vicino andiamo di la direi, ho l'impressione che di la ci sia qualcosa di interessante sento che troveremo un dungeon non lo troveremo mai l'ho guffata perché non troveremo mai un dungeon ci vedete tutti i maiali che trovate in giro ah che crudeltà ragazzi non ho culo che tornate a prendere una fornace ah no ce l'ho già io la potremmo fa perché questo mi sa portato due stacche di cose ce l'ho già io la fornace già in mano mi dispiace per questo maialino io ho portato il legno anche voi avete portato un po' di legno si si certo io ce l'ho il legno io ma guai tanto c'hanno gli alberi allora dobbiamo trovare qualche caverna no 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 oggi niente caverna allora andiamo vanno cerchiamo villaggi cerchiamo varie varie tipo varie aspettatemi varie dungeon e intanto troviamo le gole le peggio gole per esplorare però dobbiamo esplorare l'altro il ghetto è la magione così a casa ti immagini si la magione è sempre lontana da dello spawn maiale è laggante quanto povertà ci sia che uno spawna dentro la magione non è possibile la magione viene generata la magione viene generata da un'altra parte no viene generata quando tu fai proprio la mappa si infatti magari c'è qualche seed che fai in modo che ti fa generare dentro magari non lo so ma che è possibile anche qualche cosa qualche cosa questo posto carino sto posto strano potrei mettere le shaders anzi non metto le shaders che mi piace così oh c'è da ah no un pollo scherzavo porca omega che accesso stavano giù eh attenzione agli alberi che si cade cazzo ti piace i blocchi i meloni i meloni i meloni prendeteli che è meglio perchè non lo vedo Dani però ci servono i meloni essi ci servono ragazze prendeteli vedito un piccone qualcosa si rompeva ehm so fra i meloni fritti è la mia spada che si è rotta che mortacci lua dai oh belli i pappagalli mi sono appena accorto che la mia spada non ho più la spada che sei appena accorto prendiamo io prendo la giungla col co col cacao ah il cacaggio ce l'abbiamo ahah il cacaggio ce l'abbiamo giusto ahah ah no tu sei il mio è un trasformato ah vabbè ce l'ho io ho preso così magari posso coltivarlo sai che se dal biscotto al pappagallo muore? si si perchè è cioccolato lagga un po' eh si ma è normale io adesso mi faccio di funghi cosa fai? di funghi ovviamente di funghi? ok vabbè io sono sempre fatto di funghi ok adesso dici tu buoni funghi no che pare vado a centrare l'acqua non ce l'ho fatta si aspetta c'è la mossa di parkour per salire nonno la ghicchia la ghicchia eh la ghicchia si no c'è la foresta che brucia qui uff avitiamo la foresta a non bruciare rumore di ragno mi sento i ragni si è più anch'io mamma mia le cavigliette non voglio rompere ai 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 ho usato metafoga roba Dominic dove hai preso con l'accendino? eh? dove hai preso l'accendino che hai in mano? quale accendino? quello che appena hai usato dove l'hai preso? l'ho craftato e tu sprechi il ferro per captare degli accendini? certo interessante come ogni buon samarità bravo samarità oh ma tutta giungla qua e vaffanculo allora sto mangiando all'infinito uscirò una stagione prima o poi il pappagiallo 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 oh guarda che bello questo che colore oh 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 bello il colore blu ohmega oh stai zitto stai in barbagiani vediamo se ciappa insieme dov'è il pappagiallo? lo posso uccidere? nooo voglio la sua carne oh una grotta ma non da carne il pappagiallo lo so il deserto eh il deserto si voglio trovare le piramidi le cose grosse ragazzi abbiamo con noi un nuovo viaggiatore con noi un nuovo esploratore dai sul pappagallino vieni river che vuol dire desert e vuol dire desert cosa vuol dire desert desert ma river non mi ricordo river vuol dire parrot vuol dire parrot vuol dire parrocchia no river segnica fiume river ma no ma che bello il pappagallino blu che bello il mio pappagallino blu ora te l'ammazzo adesso guarda che ti segue non so ti cosa ti segue? due eh mi segue ah ti segue io voglio il coniglio che bello un coniglio Dani mi compri il coniglio? no non so no perché mi chiamo mario come ti chiami? bombea questo caga cobblestone caga cobblestone caga cobblestone no ma che cazzo è un villaggio un villaggio nel mesa non ci credo non è il mesa quello no pensavo che era il mesa da lontano mi pareva quel colore alza un po' la render distance ok ragazzi abbiamo trovato un villaggio quindi adesso andiamo a vedere subito a casa del fabbero cosa possiamo trovare all'interno intanto il nostro pappagallo ci segue entriamo e apriamo la cesta e una totale c'è tutta l'armatura in ferro abbiamo delle mele dei penini e degli alberelli perfetto bene bella cosa Domenic si hai per caso visto che pappagallo no eccolo qua pappagallo sto risparmiando un pochino io perché non mi andava di 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 farmi le porte quindi dai rubiamo un cartografo un cartografo un cartografo abbiamo un cartografo venga magari chiedi se fanno una serie solo 1.13 e se fanno un altro mondo ma cosa oppure trasformiamo questo nell'altra serie in un altro tanto non è che cambia tanto il problema è che ci potremmo giocare solo noi tre se viene franco noi quattro almeno che gliela regge raccogliamo tutte le le colture qua che ammazzi fa 0 fps chi è che fa 0 fps è qua ammazzi eccolo qua la eccolo qui guarda il mio pappagallo sulla spalla pappagallo 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 sulla spalla c quanta senti senti si vai verso gli animali fa verso degli animali se tu lo metti vicino no va verso dei mob fa se tu lo metti vicino a se tu lo metti vicino a ti puoi fai verso le creep e senti ssss dove c'è lui è giù il bozzo no? lui balla vuoi far verso i mob davvero si si fai verso dei mob pappagallo eh ma se lo metti vicino a tu il bozzo lui balla perchè sta fermo qui sapevi? che cazzo su sentite il verso degli animali? si domini il verso dei mob lo senti? si è un po' giallo dove andiamo? vediamo se troviamo qualche cosa nel deserto dove andare? eh si magari qualche piramide eh infatti andiamo a vedere il pappagallo è un po' glitchato io che ho messo dietro nessuno no infatti quindi non sappiamo se è andato qua 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 oh ci vedi? vedi? ah si ti vedo io beh su vado nel deserto sento stanno torno nel deserto più che altro poi è bello che il mio pappagallo si te le trasporta si ma dove? dove? dove siete? ok qual è finire il deserto? persone dove siete? eh però Dominic non è possibile che ti perdi in continuazione eh ma io non mi perdo in continuazione siete voi che mi perdete in continuazione no se tu che perdi noi Dominic non è vero io stiamo andando a prendere il mio conto quel cavoli miei no venga stanno per i cavoli sui tu stanno per i cavoli sui io già l'ho visto da niente infatti ma io non lo vedo anche io visto Omega grazie uh bella questa bella montagna altissima occhio al pappagallo non è una montagna è tipo una roba tipo strana bella sta roba bella mi piace mi piace sta roba Omega la montagna renderizzata male esatto mi piace trovati lama dai che uccido un lama mi da la pelle lama vieni qui che ti uccido posso farci una bella coda con questa coda qui magari un gioco sì facciamo un po' arrivare lassù però è giallo una bella torre lassù una bella casetta quella villa vai vediamo tutto il cibo che abbiamo qui ah Omega guarda ferma un attimo fermati fermati allora guarda questo è per te ok basta il pantalino l'ho trovati Dominic vado vieni da me e ti do un po' di roba in ferro sto raggiungendoti non c'è la pace ma hai la sa dire prima vi devo trovare poi siete ancora nella savana? no siamo nel deserto ma dove siete andati scusa tra un po' contiamo nella savana però aspetta che alzo la render a 48 un attimo perché sennò non vi trovo il deserto è di là avete passato la savana? ehm no stiamo andando dalla savana e siamo tipo siamo nel deserto che davanti c'ha un lago che a sinistra c'ha la savana a destra c'ha la foresta delle betulle ok allora forse so dove siete ... della pianura quatt Ministero guarda qua sc riuscisse a trovare qui c'è il deserto io sono del deserto però io vai avanti dopo la montagna renderizzata male montagna renderizzata quella probabilmente siamo nella parete di birch 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 ah questa montagna renderizzata mare c'è nella parete di birch vicino birch di birch vicino alla costa esatto vicino alla costa e andiamo ucciso di quei maiali che mi fanno proprio fastidio dai ok questa montagna renderizzata male ma cosa intendi scusa sono tutte vabbè tanto concludiamo l'episodio adesso vabbè ragazzi non vi trovo non vi trovo vabbè ragazzi quindi tanto lì qui perfetto su su ok allora quindi ragazzi insieme a mio papà gallino e a domenica concludiamo l'episodio domenics è perso nel deserto perché gli omega erano troppo veloci per lui vabbè comunque io vi ringrazio per aver partecipato a questo video vi raccomando di lasciare un bel like iscrivetevi al canale condividete questo video più che potete commentate se avete voi se volete chiedere se volete poi pian piano inizierò a caricarvi anche il mondo se vi interessa e ci vediamo nel prossimo episodio vi ringrazio domenic e ciao a tutti ciao ti darci ciao 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 Grazie.